Il Consiglio Comunale di Cosenza ha approvato tre pratiche di natura economica finanziaria, tra queste il bilancio consolidato, necessario all'assunzione di tre nuovi dirigenti tra quelli che hanno vinto il ricorso al Consiglio di Stato. Per quanto riguarda il bilancio consolidato dell'esercizio 2017, il dirigente del settore Giuseppe Nardi ha spiegato che si tratta di un documento consuntivo che riporta il risultato economico patrimoniale e finanziario del gruppo amministrazione pubblica, individuato dall'amministrazione con delibera di giunta e nel quale rientrano gli enti, gli organismi, le società controllate e partecipate con la capogruppo comune di Cosenza. Questo documento è richiesto dalla Commissione Stabilità degli Enti Locali per l'autorizzazione all'assunzione dei dirigenti. La discussione poi si è spostata sulla metropolitana leggera. Presenti in aula i rappresentanti del Comitato contro la realizzazione della metro, firmatari di una petizione alla quale l'amministrazione comunale non può dare seguito in quanto il rituale, come spiegato dal comandante della Polizia Municipale, Giovanni De Rose. Al termine del dibattito, il Consiglio Comunale, con 13 consiglieri presenti in aula, ha approvato un documento bipartisan in cui chiede al Sindaco di verificare se ci siano le condizioni per la riapertura di Viale Parco. Il Consiglio Comunale dà mandato al Sindaco di verificare di concerto con gli enti firmatari e con il Collegio di Vigilanza la sussistenza delle condizioni tecniche, giuridiche e finanziarie per una riapertura immediata della circolazione sul Viale Parco, fino alla realizzazione della viabilità alternativa prevista dall'accordo di programma. Laddove quindi questa ipotesi non dovesse essere praticabile, si chiede di verificare la possibilità di una riapertura immediata di almeno una carreggiata del Viale, tale da consentire la circolazione nei due sensi di marcia.